Che vanno marchi, di balle, non ve ne ha raccontate mai! Siamo intesi? Svelti! Primaverci! Vanno marchi! Chiare il concetto? Non li pagherete niente! Vieni! Chiare! 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 Vanno! 200 mila! Chiare! 3, 2, 150 mila! Che vanno a vincere! Chiare! e quindi sto a cercare la terra ed è un'attesienza a lui ed è un'attesina ed è un'attesina ed è un'attesina una area del vicino no 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 Oh 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 PIR TENTA HA I BORDI oh 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 c'è così Lascia lascia, lascia la mescalina Lascia la mescalina Lascia la mescalina Sta! Stop dai! No paperilla! No fatto... Dai! No paperilla! Non prata! Sto schupe lobby! No! Kenne i non ci mad superviammi? No! Kenne i non ci mad interventions? No! Don't Ç souvenirse! E diventare proprietari assoluti della casa. rule. Read theero come let's come Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!